Deborah Caprioglio, attrice italiana, subretta, presentatrice, un'artista a tutto tondo. Oggi al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. La tua impressione e cosa presenti al Festival? Io questo Festival ho avuto l'onore di presentarlo per due anni consecutivi. Poi ci siamo persi di vista, adesso sono i 70 anni dalla partenza, non sono pochi, è un bel traguardo. E quindi insomma sono felice questa sera di essere qui a ricevere questo premio ma nel contempo a festeggiare questo traguardo perché è bello che ci siano dei festival che rappresentano il nostro cinema perché il nostro cinema è meraviglioso e ha bisogno di essere comunque sempre amato in tutte le città d'Italia. Un saluto particolare proprio perché sono 70 anni del Festival. Allora un saluto particolare e un augurio che siano i primi 70 e speriamo di farne altri 70, altri 70, altri 70.